Sciottosei ragazzi sono Mattacento che ha detto GP008 e oggi siamo sempre in un nuovo video ovviamente su Brawl Stars E ho fatto come in un suggerimento in un commento sono andato più lento e più sciolto perchè se no è stato molto bravo sinceramente Allora eccolo questo che è il mio compagno incredibile e impressionante Salutatelo tutti incredibilmente Ah si può fare figo e oggi faremo allora il torneo che ne sapevo io Raffagemme chi è bravo in un raffagemme Lui Ah ma dillo Non ho capito cosa vuoi fare amico Ma è pazzo Ma 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 Mi ha lasciato solo Infamino Allora Andate tutti a chiedergli l'amicizia e poi dopo insultatelo No dai ovviamente scherzo E' uno dei miei migliori amici Non sono insulti perchè se no poi dopo insulto voi fortissimo Capito? E' capito? Porca miseria C'è la scelta In teoria non avrebbe già colpito Che è uno che si chiama Pabla Chi è Pabla? Ma vai via Pabla Si non è possibile che volete tutti me Ora Ora No Fermati Sono già Ho già perso Più 5 Perché sono fortissimo Incredibile Impressionante A proposito Potrei fare il torneo Sono scemo Ok No Non lui Ecco Pum E facciamo il torneo E vinciamo il torneo Sì sicuramente Lo vinco eh Sì sì Mica sarcasmo Vero vero Sì Chi ci crede scusatemi E una ce l'ho io E sto già morendo Sono scemo Ma vabbè ma come facciamo a vincere noi? Gigi? Sì vabbè No Dai no Michael Jackson Fai proprio schifo No ovviamente il giocatore E mica lui Noi intanto camperiamo qui E vinciamo Come diavolo faccio? Ma mi dite come diavolo faccio? Con questi Gigi Tutte nostre Sottomissione Ok Ragazzi scappate via Vi prego Stai fermo amico No Sì Ragazzi ero morto Guardati Oh mamma Mia Ero morto E va bene Vedo che è andata bene Vabbè Quindi loro partiranno con uno Trenino Ciu ciuf Aia No raga no 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 Non possiamo vincere questa Lo so che l'ho detta Lo so che l'ho detta anche Nello scorso Scontro Come si fa? C'è tutto Scegli Scegli Vabbè Se faccio per così Come ti ho fatto Colto a prendermi da lì? Dai Uccidete lei Non Colt Lei Uccidete lei Rosa Non il resto Rosa Non Colt Di 9 Spike Rosa Guarda quante cena Rosa Sono l'unico Che capisce In questa cosa Cacchio Dai Quello è morto Per il treno Ma si può No 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 Accidete Rosa Rosa Bisogna uccidere Rosa Non il resto Rosa Madonna Ma si può Ma si può Essere così Scemi Cioè uccidevano tutti Tranne rosa Sembravano Mongoloidi Oh guarda un po' Chi c'è Come fanno Essere così Veloci C'hanno qualcosa Ragazzi C'hanno qualcosa Ma hanno fatto fuori così No 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 Vai 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 Prenditeli Prenditele Bravi Attento al treno Non mi puoi morire Per il treno Ci sono Ci sono Aiuto Ok Gemme per me Annaggia Help me Dai Chi ce l'ha tutte quelle No Cacchio no Sì No Ce l'ho io Attenti al treno Agia Che male Ho scoperto Che un treno In faccia Fa male Sì Bella la vita Così Non è possibile Sì Sì Agia No il treno L'ho dimenticato Sono scemo Bravo compagno Tu si che sei fortissimo Oh ma loro ce ne hanno otto Nove Ma levati Ti prego Se fa fuori lei abbiamo vinto No Sì Sì No No Che sta succedendo raga Abbiamo vinto così Quanti gemmi c'è No 25 gemmi Cioè se uccidevano me avevamo perso Mamma mia Il bello è che io stavo soltanto attaccando Mamma mia signori Mamma mia Mamma mia Ultimo scontro Io non ho paura Eh sapevo Avete visto che ci abbiamo contro Ah ma noi siamo da lontano Siamo avvantaggiatissimi Da quando in qua Da quando in qua No Tranino Non c'è nessuno Bello col colpo così No Vita no Treno Era vero morto Eh sono bravissimi Bravo Tu Non so Bravo che te la prendi Mi piaci Mi piaci Mi piaci Mi piaci Scusate Cosa sto facendo Lui Il pazzo Raga come fa C'è lei Lei troppo forte Magari se Magari se Piper Spera 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 Piper Vabbè questo video Finisce qui Io sono incavolato nero Con Piper Anzi forse lo metterò nel video Non lo so E come titolo E alla prossima Ciao A proposito Andate a iscrivervi Ovviamente Alle altre persone Scusate per i video Muti Perché Ho avuto problemi Di Come si dice Di spazio Nel telefono E quindi non mi faceva fare i video Con l'audio E alla prossima Ciao